Salto con le scie e combinata nordica con oggi hanno chiuso i giochi olimpici invernali di Pechino 2022 dunque tempo per il mio canale dell'ultimo recappone prima di concentrarci sugli sport canonici di questo canale ovvero motori e meraviglioso gioco del baseball MLB ma dobbiamo fare un recap incredibile di quello che è successo in questi giorni al Gian Giacomo Nordic Center perché tra combinata nordica e salto speciale abbiamo avuto quattro gare una più bella di quell'altra e che in qualche modo hanno fatto la storia e hanno raccontato qualcosa di clamoroso partiremo come sempre oramai in questi podcast dalla combinata nordica per poi dedicarci al salto speciale e come sempre ovviamente timestamp per quanto riguarda il podcastone che conclude obiettivamente il recap dei giochi olimpici invernali partiamo da quello che è successo sulla gara del trampolino grande di combinata nordica e questa è un'immagine molto significativa della gara che si è svolta sul trampolino HS140 e K125 del Gian Giacomo Nordic Center il campione olimpico su trampolino grande della gara di combinata nordica è un norvegese ma non il norvegese che ci aspettavamo tutti ovvero Jan Magnus Rieber ma è Jürgen Grobac che partiva col pettorale 12 al termine della frazione di salto e recupera una marea di tempo sulla testa e stampa in volata il connazionale Jensure Softbro dunque doppietta norvegese e terzo Akito Watabe che fino a 250 metri dall'arrivo era in procinto di vincere il primo oro individuale della carriera e invece il fuoriclasse nipponico purtroppo si deve accontentare del bronzo olimpico una gara ancora una volta che ha dimostrato che il percorso di Gian Giacomo è assolutamente per fondisti e come è capitato con Geiger evidentemente nella gara su trampolino piccolo Grobac fa qualcosa di analogo se non probabilmente ancora più incredibile per aggiudicarsi quello che sarà il terzo oro individuale o meglio il terzo oro complessivo in tutti i giochi olimpici invernali di cui due individuali ricordiamo che Grobac è stato campione olimpico a Sochi nel 2014 peraltro prima vittoria della carriera in assoluto in quella stagione peraltro Grobac vinse anche la prima gara di Coppa del Mondo della carriera nello stesso anno dopo aver vinto il titolo olimpico una gara però che fino evidentemente alla frazione di salto avrebbe recitato altri valori e detto altre cose perché se andiamo a recuperare evidentemente la classifica della frazione di salto abbiamo visto un grande rientro di Jan Magnus Rieber il dominatore di questa Coppa del Mondo e che probabilmente potrebbe ancora avere chance di vincerla ma di quello ne riparleremo ha dato assolutamente le piste alla gente l'avversario più vicino, un altro gran saltatore per la combinata nordica ovvero Christian Hilves paga 44 secondi di ritardo dal fuoriclasse norvegese stesso distacco peraltro per Ryota Yamamoto il vincitore olimpico Jürgen Grobac invece dovrà recuperare due minuti e 0,7 e partiva addirittura col pettorale numero 12 segno che comunque evidentemente questa pista ancora una volta lo ripeto è per fondisti ma la gara di Rieber e in generale della combinata nordica in generale viene condizionata di fatto al primo giro perché Rieber dobbiamo ricordare che non ha corso la gara su trampolino piccolo perché di fatto positivo al covid è relegato in quarantena in un covid hotel e di conseguenza è stato chiuso evidentemente fino a che non si è negativizzato è rientrato in gara proprio nell'individuale su trampolino grande e non conosceva letteralmente la pista Yarmad Rieber compie un qualcosa di eclatante seppure in senso contrario al termine del primo giro fa per andare verso la curva del traguardo anziché appunto girare verso sinistra per completare il primo dei quattro giri previsti di conseguenza sbaglia strada, torna indietro e perde mezzo minuto di vantaggio aggiungiamo poi il fatto che causa la scarsa condizione atletica Rieber prenderà una cotta micidiale cosa peraltro non nuova già vista in queste Olimpiadi Invernali perché nel biathlon Thundervold ha preso un'altra cotta incredibile e in misura molto minore e molto meno pericolosa rispetto a Thundervold abbiamo visto delle cotte pazzesche per esempio anche in combinata nordica chiedere a Johannes Ritz che per esempio insomma alla fine Rieber dovrà abdicare al oro olimpico che comunque prendendo questi valori della gara di salto era assolutamente un qualcosa di incredibile e comunque alla portata di Rieber considerato che Rieber non ha mai vinto un oro olimpico individuale in carriera la cosa interessante è che per la medaglia alla fine se la giocavano l'Austria con Johannes Lamparter il Giappone con Akito Watabe che è andato a un passo a tanto così da vincere l'oro individuale in carriera e la sorpresa Manuel Feist che comunque prenderà la medaglia di legno alla fine della gara Manuel Feist per la cronaca è un atleta che è stato chiamato in sostituzione della squadra tedesca per Terence Weber altro atleta che doveva correre a queste olimpiadi ma che non ha gareggiato perché non si è negativizzato in tempo è stato tenuto Erik Frenzel e però è stato cambiato Weber appunto con Feist e di fatto appunto c'è stato un grande sprint appunto a un certo punto tra Akito Watabe e Manuel Feist per una medaglia d'or e una medaglia d'argento che avevano cosa di incredibile invece da dietro rientrano i due norvegesi il numero 12 Jürgen Grobac che appunto recupera 2 minuti e 7 dalla testa con una prestazione sul fondo incredibile miglior tempo sull'isci peraltro per il norvegese per il quale suona il suono nazionale ovvero sì noi amiamo questo paese e secondo miglior tempo sull'isci per Jens-Jürgen Schoestebro che di fatto arriva a 4 decimi dietro al suono nazionale molto più titolato di lui ma comunque anche Hoftebro ha recuperato 1 minuto e 47 roba incredibile appunto ripeto ancora una volta la pista di Giangiaco è stata una pista molto selettiva nel fondo a differenza dello standard che vediamo di solito in Coppa del Mondo e arriva il bronzo per Akito Watabe che di fatto è il grande sconfitto di questa gara individuale calcolando che evidentemente fino a pochissimi metri dal traguardo aveva assaporato l'oro olimpico individuale cosa che il fuoriclasse nipponico non ha mai vinto neanche considerando i mondiali ed era veramente arrivato a tanto così e invece deve continuare di una medaglia di bronzo terzo anzi quarto ovviamente Manuel Feist altra grande sconfitta è l'Austria perché Greider e Lampard arrivano quinto e sesto con Lampard che peraltro prendrà anche lui una cotta incredibile Rieber finisce ottavo ma è giustificato da due cose uno l'errore al primo giro che di fatto gli ha fatto perdere mezzo minuto ma anche dalla scarsa condizione atletica perché appunto non essendoci allenato per 10 giorni il norvegese ha dovuto pagare evidentemente una grande condizione evidentemente mancante e attenzione perché per il proseguo delle gare di Coppa del Mondo che ci saranno da qui a fine marzo Rieber potrebbe non essere più il favorito per vincere la Coppa del Mondo perché al momento è in testa Lampard e Rieber non ha la condizione atletica dominante che aveva prima di questi giochi olimpici la quarantena forzata ha sicuramente inciso il non allenarsi sicuramente ha inciso attenzione perché potrebbe esserci un finale molto interessante per quanto riguarda la Coppa del Mondo di combinata nordica capitolo Italia abbiamo avuto una prestazione interessante quella di Raffaele Buzzi che comunque si conferma ancora una volta il migliore dei nostri per una zona italiana che non ha fatto proprio faville anzi ha fatto una prestazione soprattutto a squadre disastrosa ma ovviamente ne parleremo gli altri italiani purtroppo sono finiti after the music con Alessandro Pittin trentatresimo che comunque ha la capacità di realizzare il stesso tempo nel fondo segno che comunque i problemi del fuoriclasse italiano sono sul trampolino e bisognerà ripartire già dalla prossima off-season per ricostruire Alessandro sul trampolino in ottica evidentemente futura perché Pittin è molto forte soprattutto appunto sulla parte scistretti sul trampolino qualche anno fa e anche fino all'anno scorso si erano visti giorni di vita quest'anno purtroppo non si sono visti i progressi anzi Pittin è regredito e ci sarà da lavorare evidentemente in questa situazione gli altri italiani trentottesimo Samuel Costa che comunque anche lui paga una condizione atletica deficitaria e trentanovesimo Jacopo Bortolas che comunque è il più giovane della nazionale e come dicevo nel podcast precedente sarà uno dei pilastri probabilmente della nazionale del futuro ma ricordiamo che Bortolas è un classe 2003 molto giovane ha la prima esperienza olimpica il ragazzo avrà modo di crescere e si farà questo per quanto riguarda l'individuale e parliamo della gara squadre che peraltro si è appena conclusa e la Norvegia fa il bis e ancora una volta Jürgen Grobac fa la storia in una maniera molto importante perché il norvegese diventa il primo combinatista della storia a vincere quattro medaglie d'oro nella stessa competizione in più edizioni logicamente delle olimpiadi peraltro bissando lo stesso schema di Socio 2014 dove appunto Grobac vinse ora individuale e ora squadre qui è la stessa cosa come la Norvegia che fa una prestazione incredibile soprattutto in seconda e terza frazione battendo per distacco le altre squadre alla fine se la giocano Germania, Giappone e Austria con le prime due evidentemente arrivato a treguardo in questione dunque argento per la Germania e bronzo per il Giappone che di fatto è la grande vincitrice di questa olimpiade la Norvegia appunto lo ha vinta nella seconda e terza frazione con soprattutto Espen Andersen che evidentemente ha costruito una grande frazione di fondo chiudendo il buco con le tre di testa che sono sempre state Germania, Austria e Giappone poi Jensel Sost Oftebro di fatto dà il là alla vittoria tedesca con una seconda parte di terzo giro incredibile poi Jürgen Grobac chiude i conti di fatto portando la Norvegia al trionfo assoluto la Norvegia vincerà con quasi un minuto di distacco su tutte le altre lasciando Germania Giappone e Austria a sprintare per il bronzo la vittoria della Norvegia è significativa perché come vediamo non c'è Jarman Sriber che è stato ritenuto non all'altezza per via della scarsa collezione atletica vista nella gara individuale sul trampolino grande è stato lasciato a riposo di conseguenza Rieber è stato subito da Esperbjornstad che di fatto doveva limitare i danni nella prima frazione e comunque aveva distacco di fatto al termine della prima frazione Andersen è bravissimo a chiudere il buco Oftebro di fatto chiude poi i conti e Grobac di fatto si invola verso un grande oro olimpico poi è grande volata invece per l'argento la Germania alla fine la spunta con una frazione di Vincent Geiger incredibile segno che comunque il combinatista tedesco ha fatto una prova maestosa anche una volta nel fondo calcolando che alla fine della terza frazione la Germania ha pagato tantissimo perché a sorpresa è stato schierato Erik Frenzel che nel frattempo si è negativizzato Frenzel non è tornato in Germania è stato preferito lui a Johannes Rizek che comunque nella gara individuale di San Polino Grande non aveva fatto chissà che però in misura molto minore rispetto a Rieber Frenzel ha pagato quello che è successo appunto al norvegese una condizione atletica precaria dopo 10 giorni di quarantena senza allenarsi e infatti la Germania ha pagato questa scelta sbagliata in modo di vedere di Erik Frenzel al posto di Rizek e di conseguenza una parte di fatto dell'oro che poteva giocarsi la squadra teutonica è di fatto svanita già in questa situazione in ogni caso alla fine è volata per l'argento con la Germania che batte in volata il Giappone il Giappone fa una grande azione peraltro con un sorprendente Ryota Yamamoto lasciato di fatto a chiudere la frazione nipponica cosa che in realtà è solita avere Akito Watabe e invece Yamamoto ha la grande capacità di rimanere con Geiger e semplicemente averla meglio di Martin Fritz l'ultimo combinatista austriaco che di fatto deve arrendersi regalando un legno all'Austria un'Austria che comunque è la grande sconfitta evidentemente di questa Olimpiade tutte le altre squadre sono finite after the music con comunque dei piazzamenti interessanti perché la prima degli altri è la Francia squadra che l'Italia può prendere a esempio per ripartire evidentemente dopo questa Olimpiade che per quanto riguarda la squadra italiana è a dir poco fallimentare al netto che comunque non c'erano assolutamente valità di medaglia però l'Italia come vediamo è finita anche lei molto più after the music rispetto a Francia e Repubblica Ceca e Finlandia la grande sorpresa appunto sono gli States che hanno un movimento che sta rifondandosi veramente alla grande e più che la Francia che è comunque una nazione più competitiva dell'Italia la nostra nazionale deve vedere appunto gli States come esempio da seguire perché qualche tempo fa gli Stati Uniti erano veramente rasenti lo zero come movimento per quanto riguarda la combattata nordica hanno investito su dei giovani che hanno fatto tanta gavetta in Coppa Continentale e alla fine i risultati si sono visti perché gli Stati Uniti sono arrivati in una grandiosa sesta posizione con Taylor Fletcher Ben Loomis Jasper Good e Jared Schumate il veterano della squadra sonitense è Taylor Fletcher gli altri sono tutti giovani che in qualche modo sono esplosi vedi per esempio Ben Loomis altri si faranno come Schumate come Steven Schulman come Malacinski come lo stesso Jasper Good che comunque è un combinatista equilibrato insomma c'è modo per ripartire in ottica Milano Cortino 2026 dove l'Italia potrà recitare spero un ruolo più importante di questa nona posizione che evidentemente è abbastanza incredibile ma in senso contrario quella Francia per la cona che venisce quinta con Gaël Blondot Matteo Bo Antoine Gerard e Laurent Molletalais settima la cechia con Thomas Sportic Jan Wittrval Andrej Pausot e Lukasz Danek la grande sconfitta oltre l'Austria per le superpotenze è la Finlandia che partiva con ambizioni quantomeno di giocarsela con la Francia e invece incassa dei parziali mostruosi e di fatto prende le piste dalle nazioni con cui poteva competere non basta il Cairo là mancano evidentemente altri fazionisti competitivi la Francia comunque ha meritato la quinta posizione nella Finlandia comunque ha sorpreso perché comunque Erola e Irvo ne sono comunque due fondisti per quanto riguarda la combata nordica di primissimo livello Nonna l'Italia che comunque partiva già di staccata dal segmento di salto e non aveva neanche tanto senso forzare perché comunque Nonna partiva e Nonna rimanevi in ogni caso c'è stata l'esperienza per Jacopo Bortles che ha fatto una discreta olimpiade per quelle che sono le sue potenzialità Samuel Costa ha dimostrato purtroppo di avere delle difficoltà atletiche Raffaele Buzzi fa comunque una figura dignitosa nella sua frazione e chiude Alessandro Pittin che appunto ripeto ci sarà da lavorare sul trampolino prevalentemente perché nel fondo per fortuna il nostro c'è e come l'Italia però appunto non aveva tante vellità e non aveva tanto senso tirare così tanto perché comunque eri a 4 minuti dalle posizioni che potevano contare per te e avevi la Cina che di fatto è qui solo per una deroga di fatto l'Italia è arrivata ultima tra le nazioni regolari di Coppa del Mondo da qui bisogna assolutamente resettare e ripartire c'è Raffaele Buzzi che ha dimostrato di essere comunque in gado di avere delle prestazioni interessanti e per interessante intendo piazzamento nei primi 20 Pittin va ricostruito sul trampolino vanno recuperati altri atleti come Costa e Costner e bisogna lavorare sui giovani che ci sono vedi per esempio Jakob Bortas che abbiamo visto qui ma anche Domenico Mariotti e Stefano Radovan che stanno facendo la gavetta in Coppa Continentale da qui a 4 anni tra la combinata nordica maschile e la femminile secondo me c'è spazio per ripartire e fare figure molto più dignitose di questa ovvio per i maschi non si pretende di arrivare a medaglia perché comunque Norvegia Austria Giappone e appunto Germania e anche Finlandia in questo momento e Francia sono superiori però arrivare a giocarsela con queste nazioni che vi vediamo sopra di noi sarà un traguardo doveroso da raggiungere per Milano Corsina 2026 discorso diverso invece secondo me va fatto per la combinata nordica femminile dove lì abbiamo più chance ma lì abbiamo un movimento già più florido avere un movimento competitivo da entrambe le parti è assolutamente un dovere per la combinata nordica disciplina molto bella e molto affascinante soprattutto per l'Italia che comunque ha più che discreto un movimento su cui attingere detto questo celebriamo la Norvegia che vince due titoli su due nelle gare di trampolino grande di combinata nordica per cui appunto risuona sì noi abbiamo questo paese lì una zona norvegese ma passiamo al salto dove la Norvegia vince un altro titolo ma di fatto parliamo del titolo più prestigioso quello individuale quella squadra invece la Norvegia lo perderà in un modo incredibile ma parliamo della gara individuale perché il campione appunto olimpico su trampolino grande per quanto riguarda il salto è norvegese Mario Slimvik l'uomo più in forma sul trampolino di Gian Giacomo per quanto riguarda la gara di salto speciale ha la meglio su uno straordinario Ryuyuko Bayashi e riesce a battere il fuoriclasse nipponico con due salti costanti su grandissime misure abbiamo capito che anche il trampolino grande di Gian Giacomo ha evidentemente preponderanza di aerodinamica di conseguenza tutti i saltatori che sono in forma e hanno una aerodinamica preponderante possono fare assolutamente la differenza e Lindvik lo ha fatto con due salti veramente incredibili per il norvegese è ovviamente il primo titolo olimpico della carriera batte di fatto quattro punti Ryuyuko Bayashi che si inventa un primo salto incredibile da di fatto 142 metri due oltre l'HS che è fissato appunto a 140 a Kobayashi però mancherà il secondo salto che sarà di soltanto si fa per dire 138 metri che comunque è un grandissimo salto ma contro questo Mario Slimvik che comunque ha fatto 140,5 metri nel primo salto e 140 nel secondo era impossibile averla meglio perché Lindvik in questo momento storico è l'uomo più in forma quantomeno per le gare individuali perché nelle squadre purtroppo Lindvik sarà la croce della Norvegia mentre qui evidentemente è delizia senza se e senza ma il bronzo va a Karl Geiger che nei grandi appuntamenti con impaglio medaglie si sveglia e batte sempre un colpo risponde sempre presente bronzo di fatto un po' a sorpresa perché comunque Karl Geiger non aveva dimostrato chissà che soprattutto nella prima settimana di gare sul trampolino piccolo si era svegliato un minimo in qualificazione e in allenamento e poi con condizioni comunque importanti riesce a piazzare due salti costanti entrambi a 138 il metronomo Geiger riesce in ogni caso a fare la differenza soprattutto nella seconda run dove evidentemente realizza un salto molto solito con condizioni veramente complicate medaglia di legno per colui che poteva comunque fare la storia ovvero Kamil Stork per una Polonia che qui a Janjaku si è veramente ritrovata con dei materiali nuovi abbiamo visto i polacchi saltare con delle tute fosforescenti mai presentate in Coppa del Mondo ed evidentemente hanno fatto le fortune per quanto riguarda la competizione quantomeno individuale Stork è andato di fatto a 4 punti circa dalla medaglia di bronzo e sarebbe stata storica perché sarebbe stata di fatto la terza consecutiva in tre edizioni consecutive dei giochi olimpici due d'oro e una di bronzo ma comunque il fuoriclasse polacco deve accontentarsi di una buonissima prestazione solida ma purtroppo insufficiente per le medaglie la grande sconfitta è la Slovenia che piazza di fatto il suo miglior uomo in sesta posizione parliamo di Timi Zaic ma che avrà modo di rifarsi nella gara a squadre che ha regalato veramente emozioni in tutto e per tutto di fatto ribaltando un pronostico che sembrava assolutamente fatto in ogni caso anche qui c'era spazio per la nostra nazionale che in realtà aveva soltanto un esponente Giovanni Bresadola che comunque compie un grandissimo salto per le sue potenzialità 127 metri per il fratello di Davide che fu un saltatore di alto livello per la nostra nazionale italiana peccato che comunque una prima serie su alte misure non è per il momento affare del nostro portacolori perché come vediamo l'ultimo qualificato della gara su Trampolino Grande ovvero l'Eston è Arti Aigro è atterrato a 130 metri 5 oltre il punto K Giovanni fa un salto molto interessante con vento frontale e Giovanni riesce ad atterrare a 127 metri sfruttando la sua incredibile aerodinamica il problema è che appunto per poco di fatto non basta per una seconda serie che per questo stato il movimento italiano che veramente ai minimi storici sarebbe stato veramente importante per il morale e per anche qui ricostruire sempre in ottica olimpica perché le olimpiadi saranno in casa ed è importante presentarsi tirati a luce diciamo in tutte le discipline possibili che ci saranno nelle olimpiadi di casa abbiamo già visto come l'Italia ha organizzato e ha portato a casa dei risultati incredibili in più discipline di fatto se non sbaglio siamo arrivati a nove discipline diverse a medaglia c'è bisogno di aggiungere anche queste discipline di cui parlo sul canale per dare ancora più luce a comunque cose molto interessanti e parliamo di salto e combinata più la combinata che il salto ma chissà in ogni caso c'è da celebrare ancora una volta il campione olimpico individuale Marius Lindvik che comunque in questo momento ha avuto una grande prestazione dal punto di vista individuale ha avuto la meglio su quello che probabilmente vincerà la Coppa del Mondo ovvero Ryo Kobayashi che comunque in condizioni proibitive riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé sulle grandi misure in questa gara in realtà il giapponese è mancato ma comunque non ha demeritato assolutamente e il nipponico sarà da tenere d'occhio assolutamente per quanto riguarda i mondiali di volo che si terranno a Vickersund a marzo in Norvegia attenzione perché Kobayashi ha tutte le grandi capacità per battere il record del mondo fissato a 253 metri e mezzo da Stefan Kraft nel 2017 attenzione anche però a Karl Geiger che appunto in tutti gli appuntamenti ha fatto dei salti solidi con impagno medaglie e può essere uno spauracchio anche per quanto riguarda la Coppa del Mondo sarà un bel duello ma attenzione perché adesso bisogna parlare della gara più incredibile che non raggiungerà mai i livelli i clamorosi della mista squadre del salto speciale ma è una gara che parla di un ribaltamento di un pronostico perché per quanto riguarda la gara sul trampolino grande a squadre con quattro uomini vince l'Austria che comunque con una formazione solida riesce ad averla meglio di Slovenia soprattutto di Norvegia e Germania la Norvegia di fatto butterà via una medaglia pressoché fatta e l'Austria avrà la meglio su una Slovenia che partiva con tutti i favori del pronostico l'Austria di fatto compie quattro salti solidi trova in Jan Erl di fatto l'MVP della squadra e regala una medaglia storica a Manuel Fettner 37 anni già argente individuale sul trampolino piccolo e seconda volta medagliata a questi olimpidi con un oro a 37 anni lui che doveva evidentemente ritirarsi già qualche anno fa ma ha sempre continuato Fettner è veramente l'araba fenice del salto speciale un saltatore che sta trovando i risultati migliori a età molto avanzata ed è veramente incredibile per una formazione austriaca che appunto si aggiudica alla medaglia d'oro di fatto 12 anni dopo Vancouver 2010 dunque per Stefan Kraft Daniel Uber Jan Erle Manuel Fettner suona l'innozionale austrico che è terra sui monti terra sul fiume seconda è la Slovenia che è di fatto la grande sconfitta di questa competizione Slovenia che lascia a riposo Ancel Anisek ma che schiera Lovro Koss Zene Preutz Timi Zajc e Peter Preutz che comunque su questo trampolino si è trovato alla grande e ha fatto salti in ogni caso abbastanza solidi e sulla carta era una formazione che vedendola così potevi dargli già comunque l'oro in lotta evidentemente con l'Austria ma sulla carta Slovenia era superiore ad Austria e invece un grande Jan Erle trova due salti solidi soprattutto il secondo 187 metri e mezzo è qualcosa di incredibile e con quello di fatto l'Austria riesce a conquistare la medaglia d'oro agli anni della Slovenia e terza è la Germania che a sorpresa batte la Norvegia per 8 decimi di punto ma è una Norvegia che in realtà va detto correttamente perde l'oro evidentemente scusatemi perde il bronzo per 8 decimi di punto con un salto allucinante ma il senso contrario di Lindic che già fa fatica nel primo salto 121 metri nel secondo quando c'era da portare a casa una misura solida per il bronzo sbaglia il salto 126 metri e mezzo non sono sufficienti e per 8 decimi Kostas di Schmid Stefan Laie Marcus Eisenbichler e Karl Geiger conquistano un bronzo insperato la Germania era destinata al legno invece il legno se lo becca la Norvegia con un suicidio sportivo e dunque niente medaglia per Granul Tande Johansson e Lindic ci sono stati anche possibili outsider in questa lotta per le medaglie ma sono stati di fatto azzoppati da una prima run oltremodo disastrosa ma per la gestione delle condizioni c'erano condizioni molto ballerine nella gara individuale il vento era prevalentemente alle spalle e molto forte in alcuni tratti vengono fatti saltare in ogni caso Giappone, Polonia e Russia con condizioni più svantaggiose rispetto ai Big Four quindi Germania Slovenia Austria e Norvegia e di conseguenza di fatto queste nazioni che potevano essere le outsider per una medaglia di bronzo sono state di fatto tagliate fuori subito e di conseguenza gli altri piazzamenti li vediamo quinto il Giappone con i fratelli Kobayashi Sato e Naoki Nakamura sesta la Polonia con Giva Wonsek Kubatsky e Kamil Stok settima la Russia che era una squadra molto interessante per una possibile medaglia di bronzo con Sadrev Trufimo Nazarov e Klimov ma appunto come dicevo il primo salto di Sadrev è stato oltremodo penalizzato dalle connessioni meteo e non si è stato più in grado di fatto di rimontare ottava la Svizzera che comunque ottava doveva arrivare ottava è arrivata con Dominic Peter Gregor Deschwan Zimon Amman forse all'ultimo Olimpiadi della Carrera e Kilian Pejer eliminate Repubblica Ceca Stati Uniti e Cina che come di fatto in tutte le discipline dello scinordico che abbiamo commentato quindi salta e combinata era qui semplicemente per onor di firma con deroga appunto per le regole per arrivare comunque a un numero di squadre presentabili in questa competizione olimpica competizione olimpica che comunque vede la Slovenia in generale vincitrice del medagliere e non potrebbe che essere altrimenti perché comunque con le medaglie d'oro viste nella mista squadra e soprattutto nella gara femminile la Slovenia di fatto ha messo subito la marcia in più che le altre squadre evidentemente non hanno avuto in questo momento l'unica cosa che interessa per quanto riguarda il Nordic Podcast è la eventuale e concreta conclusione e di conseguenza ringrazio chi ha seguito questi approfondimenti per quanto riguarda i vari recap su salta e combinata che torneranno comunque in ogni caso per i mondiali di volo con gli sci dove faremo il recap anche qui in questo caso mentre per le Olimpiadi questo era l'ultimo recap sul canale sportivo il canale sportivo che tornerà attivo già settimana prossima perché siamo a fine febbraio ed è tempo di presentare i campionati motoristici internazionali quindi MotoGP e Formula 1 in primis che partiranno a marzo partiremo evidentemente sabato prossimo con la presentazione della MotoGP e poi ci avvicineremo verso la Formula 1 di cui parleremo tanto evidentemente su questo canale in ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questo Nordic Podcast su salta e combinato su trampolino grande da Gian Giacu e soprattutto da parte di Matthew Thorgard